Oe, boicottaggio? Sendo tutti perché la macchina non parte, qui è un momento terribile perché se non parte la macchina qui il governatore può aspettare fino a domani mattina. Uno parla di boicottaggio, chi sarà stato? Giulio, quanto ti ha dato Don Sandro per non far partire la macchina? Quanti riai ti ha dato? Piove anche, non è mai piovuto, volete saperla? Sta piovendo, è proprio il momento di partire, Giulio sta riparando il blocco dell'avviamento, piove, chissà qualcuno dice che è stata fatta una macchina per non far arrivare Don Sandro Teresina. La chama si acendendo e il coro del mio povo aquecer Bravo, Giulio! La chama si acendendo e il coro del mio povo aquecer Vieni qui! Salim! Salim! La chama per la padeira, feita di fogo e paixão, clareando a terra inteira, con mei noiti di São João Do mio povo encaminhada, lutando pra ser felice, fazendo festa animada, nas ruas do mio paix Eu vi, 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 Vou chamar Pedro, companheiro, amigo, convido a Lia de Itamaracá Pra nos passar a arte da ciranda, pois ela comanda sem desanimar Se a perna cansa é firme a esperança, eu tô na dança, eu quero é cirandar Se a perna cansa é firme a esperança, tô que tô na dança, eu quero é cirandar Ta-ra cansa é firme a esperança, eu tô na dança, eu quero é cirwaru Na cansa é firme a esperança, eu quero é cirung a esperança, eu quero é cirular Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.